Come adulti nelle scuole gesuitiche ci dica qualche parola, come il nostro compromesso, il nostro lavoro oggi in Italia, nel mondo, può essere gesuitico, può essere evangelico. Perché coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica. Perché la politica è una delle forme più alte della carità. Perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile. Ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita. Non è facile. La politica è troppo sporcata. Ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quello è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello. Ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. E tante volte la strada per lavorare è la politica.